Sì, io penso, credo che la salvezza sia un obiettivo talmente importante per cui è giusto affidarsi a chi ha dentro di sé le motivazioni, la volontà, le attitudini, le capacità, ma questo non riguarda gli undici, riguarda i venti. Guarda, io non mi vorrei soffermare sui singoli perché è una cosa sbagliata. Quello che è un gruppo va salvaguardato in questo senso proprio, parlando di gruppo e non del singolo. Quindi ho detto prima che conto su, non su 20, siamo in 26, 27 quelli che siamo, siamo in tanti e tutti quanti devono portare qualcosa. Quando saranno chiamati? Quando sono chiamati daranno il meglio di loro stessi. Se facciamo così non ci sarà una partita in cui manca uno e uno gli viene il mal di testa per cercare la soluzione adatta, perché sa benissimo che se esce uno, entra un altro, la soluzione è già bella che trovate. Questo è l'obiettivo di un allenatore. Per cui soffermarmi sui singoli non va bene. Io ho parlato con tutti, ho parlato con chi ha giocato meno, con chi ha giocato di più, con quelli più anziani, con quelli un po' più giovani. Perché? Perché un allenatore deve fare questo. Certo, non ho avuto il tempo di soffermarmi con tutti, 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 però direi che una chiacchierata l'ho fatta. Sì, c'è una certa voglia di dare tutto e questa è la cosa principale, però non deve confondersi con la voglia di spaccare e poi ti spegni con un fiammifero, non è così. Devo dire il fatto che tutti dal primo all'ultimo hanno dato il meglio in allenamento, il meglio sotto il profilo dell'impegno. Questo è fondamentale. Ora si tratta di mettere a frutto quelle cose che abbiamo cercato di trasmettere a livello anche tattico, fisico e soprattutto mentale e provare a raccogliere. Di sicuro sono contento perché tutti quanti hanno fatto veramente allenamenti molto intensi, ma soprattutto mentali. Penso di averlo quasi sciolto. Chiaramente senza, ovviamente, offesa per nessuno, ma lo tengo per me. Nel senso che cerco di mantenere un po' quello che è un briciolo anche per i giocatori, per tenere un po' tutti... Per pregarti? Un pochino, ma al di là di quello anche per tenere un po' tutti sulla corda, tutti i giocatori. I giocatori, devo dire, mi hanno dato tutto quello che era possibile quando c'è un cambio a livello allenamenti, a livello attenzione, a livello volontà. Quindi sono contento di questo. È chiaro che l'allenamento è una cosa, la partita è un'altra, però insomma le premesse sono fuoriere di una prestazione, almeno sotto questo profilo di intensità e di mentalità giusta. Io non credo che sia fondamentale quello, non è fondamentale. Datemi ascolto, non è fondamentale. No, è 5 e 2. Bravo, metti quello che vuoi. È fondamentale come si interpreta il modulo, perché i giocatori hanno determinate caratteristiche e li scelgo in base a queste caratteristiche per il modulo che intendo attuare. Poi ribadisco, vi ho detto che è una possibilità di modificare in corsa, di cambiare, quindi non c'è una cosa fissa. Le caratteristiche di questa tipologia di giocatori sono quelle che piacciono a tutti, sono importanti e in una partita servono. Certo, non tutti assieme, voglio dire, fa parte del calcio, è questo. Qualsiasi partita si possa guardare, si vede che uno, due, massimo tre, sono così e poi il resto ci vogliono gli operai, ci vogliono gli architetti, gli ingegneri, il capomastro, ci vuole un po' tutto, il muratore. Quindi voglio dire, la corsa per un campionato necessita di tutto. E la qualità però ovviamente è una cosa ricercata, ricercata che a volte ti fa vincere. Se la qualità viene messa a servizio della squadra è un grande traguardo raggiunto. A volte, come diceva lei, se viene così espressa solamente fino a se stessa, serve a poco. Quindi si tratterà, se così è stato, magari di portare questi ragazzi a essere più pratici. Quindi vedremo. Ma guarda, io credo che ci siano svariate possibilità in attacco. Come ha detto lei, a livello di un centravanti più statico, centravanti più proprio puro, così come un altro tipo di giocatore. Quindi sono scelte che a volte si fanno, poi si può cambiare in corsa. Vedremo. Di sicuro credo che sia possibile vedere tutte e due le formule. Emerson sta bene dove sta, anche perché centrocampisti ne abbiamo. Quindi non credo che ci sia necessario questo spostamento. Però non precludo niente, voglio dire. Non è questo quello che... Staremo a vedere. Staremo a vedere. Di sicuro è un giocatore che ha dato tanto a Livorno e ancora quest'anno e anche in futuro potrà dare molto. Quindi vedremo. Antonini poi sa giocare a destra e a sinistra, quindi problemi non ce ne sono. E io l'ho visto ancora meno di voi. I punti sono tre in palio e sia noi che loro penso cercheremo di beccare tutti e tre. Questo è l'obiettivo. Poi quello che il campo ti consente di prendere, prendi. Però onestamente la differenza fra uno e tre è tanta. In questo momento può essere veramente fondamentale. È una squadra che ha una buona manovra. Giocano bene. È una squadra che si trova come noi in posizioni non ottimali. Però è una squadra che ha sempre cercato di giocare. È una squadra da non sottovalutare assolutamente. Poi non siamo nella condizione di sottovalutare nessuno. Quindi non è inutile che perché non è il crotone pensiamo che sia una passeggiata. Passeggiate credo non siano mai state fatte e non se ne vedranno da qui alla fine. Cercheremo di essere all'altezza di una squadra che è una delle migliori della categoria a livello di manovra e di gioco. Quindi sarà un bel esame ma soprattutto c'è da fare poche chiacchiere. È da fare una partita piena di contenuti soprattutto mentali, fisici e vedere come va a finire. Io sono fiducioso perché ho visto la squadra lavorare bene. Ora è la prima partita non so cosa potrà darmi, che frutti potrà darmi questo bel lavoro. Però in genere quando si lavora bene poi si raccoglie qualcosa. Si dovrebbe poi dopo. Finora magari non è stato così. Hanno lavorato bene prima di me ma non è stato raccolto molto. E allora dovremmo cercare di invertire la tendenza. Questi giorni abbiamo cercato di capire e di conoscerci meglio tutti. Quello che io chiedo è quello che i giocatori sono in grado di poter fare. Quindi si cerca di tirare le somme e di fare in modo di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che si hanno. Questo è quello che posso dire. Poi è talmente poco il tempo in cui siamo assieme che per vedere quello che spero possa tirarci fuori. Magari forse non si vedrà domani. Ma nel corso di queste partite mi auguro di migliorare ulteriormente. Come hai detto tu sono collegati spesso. A volte questo non accade. In questo momento mi interessano tutti e due. Ovviamente il risultato è più importante. Senza stare tanto a fare i fenomeni. Il risultato è la prima cosa. Che però si ottiene se c'è voglia di ottenerlo, se c'è un equilibrio in campo, se c'è razionalità e se ci sono giocate importanti. Se ci si aiuta. Non è che viene per caso. A volte viene senza grandi giocate ma solo se ci si è aiutati. No, in questi giorni ancora no ma stasera magari sicuramente lo sentirò. No, credo che sia una bella emozione. Anche perché è stato, come si dire, un colitus interruptus. Uno stava bene, stava per raggiungere un qualcosa e poi si è stoppato tutto che non è proprio il massimo. Domani c'è anche pronti, è luccareati e pronti. Mi fa piacere, vi saluto volentieri. Hanno vinto ieri. Hanno vinto con la tutta nuova. Benissimo.